È scontro frontale tra la comunità islamica di Cantù da una parte, il comune della città del Mobile e la Lega Nord dall'altra. Questa mattina, attorno alle 7 e poi per circa un'ora, al capannone di Via Milano e in un tendone esterno montato nella notte, si sono radunati tra i 500 e i 600 fedeli islamici per celebrare la festa del sacrificio. Un numero enorme che di fatto ha reso carta straccia la diffida formale a evitare qualsiasi raduno religioso in quell'area emanata soltanto due giorni fa dal comune di Cantù. Attorno al capannone di Via Milano 127, poco dopo l'alba, erano schierati anche i carabinieri di Cantù e la polizia locale per scongiurare qualsiasi problema di ordine pubblico. In effetti il raduno si è svolto senza tensioni, ma da lì a poco sono divampate polemiche forti come non mai. Letteralmente furioso il sindaco della città Brianzola, il leghista Edgardo Arosio. Dopo ben 17 violazioni accertate nelle scorse settimane, dice il primo cittadino, dopo la diffida a utilizzare il capannone artigianale per pregare e nonostante il limite massimo di persone fissato in 99, ci troviamo di fronte a 600 individui che ignorano le nostre leggi, i nostri atti ufficiali e persino il buonsenso. Stamattina, prosegue Arosio, si è consumato un fatto gravissimo. Ora noi procederemo con le sanzioni, ma soprattutto aggiungeremo un altro capitolo al dossier già depositato in procura. Toni radicalmente diversi arrivano da Francesco Pavesi, sfidante sconfitto da Arosio alle recenti elezioni, per lavori in corso. Quando abbiamo governato noi abbiamo sempre affrontato la questione in modo da garantire alle persone di fede islamica di professare la propria religione, dice Pavesi. Nostro obiettivo era governare il fenomeno creando un clima positivo e di convivenza. I toni che usa oggi la Lega, chiude Pavesi, sono irresponsabili e come sempre evitano di assumersi la responsabilità di affrontare con serietà la questione.